Le religioni per migliaia e migliaia di anni hanno promesso, probabilmente sin da epoche preistoriche, quindi decine di migliaia di anni fa o centinaia di migliaia di anni fa, varie forme di salvezza, soprattutto hanno promesso alla gente la salvezza dal male che più sembra inquietare gli esseri umani, che è la salvezza dalla morte. E in nome delle religioni si sono fatti tanti scempi, tante guerre, tanti genocidi, in nome di garantirsi un posto nel più in là, nel paradiso, un posto nell'immortalità. Qualcuno ogni tanto dice, ma com'è possibile? Non è possibile che nel nome di Dio, dell'assoluto, del trascendentale, di forze mistiche, di un Dio o di molti dèi, si possa arrivare ad uccidere e a compiere delle atrocità, delle barbarie? Il mio pensiero è giusto il contrario, che proprio in nome di Dio si può fare qualsiasi cosa. Innanzitutto perché dove è Dio? Quando mai si è pronunciato? Per esempio nei monoteismi Dio comunica alla gente attraverso di un libro che è stato scritto settecento anni fa, duemila anni fa, cinquemila anni fa, e che poi è passato magari attraverso migliaia di correzioni da parte di gente che non era tanto illuminata, ma aveva degli interessi mondani, materialistici. E quindi come si può dire che un libro che neanche è la rivelazione diretta di un Dio, come la Bibbia, il Vecchio e il Nuovo Testamento, ma è l'ispirazione di un Dio a persone che avevano degli interessi anche politici di governo molto mondani, sia il messaggio divino e che i Dio governi le genti in nome di quel messaggio, attraverso quel libro. È una cosa assurda. Però, vabbè, la gente ci ha creduto, quindi nel nome di Dio che non esiste si può fare qualsiasi cosa, anche perché chiunque si può proclamare portavoce di un Dio. Anch'io posso dire che me l'ha detto Dio. Anche perché in molti vedono in Dio l'essaltazione dell'Io. Questo mi sembra che lo diceva Freud. Io è di apostrofo io. Dio. Dio me l'ha detto, cioè me lo sono detto io. Quindi le religioni che si protraggono fin da era preistorica nascono proprio con la coscienza della morte o con la rimozione di quella coscienza, direbbe Freud. Perché? Perché le grandi civiltà umane nella preistoria iniziano a inumare i loro defunti, i loro cadaveri, voglio dire. E quindi si hanno i primi culti e morti. Si rifiutano di credere che stanno morendo, che sono morti, e credono che giacciano in un sogno eterno. E in quel modo li ricoprono perché possano riposarsi per l'eternità con tutti i loro oggetti della vita quotidiana e che in un futuro magari si sarebbero risvegliati in quelle idealizzazioni della natura che trasponevano nei pittogrammi delle loro caverne, nei paleogrammi, e quindi loro idealizzavano nelle pitture rupestri il mondo circostante e le loro attività, la caccia, la pesca, la prosperità del cibo, della naturalezza e si immaginavano che il loro caro istinto sarebbe risuscitato in quel mondo idealizzato, astratto dalla primitiva arte preistorica. Poi da lì, allo spiegarsi i fenomeni della natura attraverso principi antropocentrici ed antropomorfi, il passo è stato breve. Creatore di tutto doveva essere qualcosa o qualcuno simile a un essere umano o superiore. Da qui l'idea biblica che Dio ci abbia fatto a sua immagine e somiglianza. Quindi è Zeus che lancia i fulmini e le saete. Adesso sai da dove vengono e che cosa sono. E quindi quello era sufficiente a spiegare tutte le cose del mondo. Perché ci sono i pesci? Beh, perché c'è Netuno. Quindi le religioni, più che spiegare la realtà, la facevano accettare. Ed erano consolatrici della morte, non soltanto della morte naturale, ma anche si potevano così giustificare le guerre perché tanto c'erano degli enti sovrannaturali che si prendevano cura dei soldati e dei guerrieri uccisi in battaglia. Allora, le religioni che vantano a volte radici molto ancestrali, preistoriche, perché non importa che siano anche dei nuovi culti moderni, sempre le idee religiose sono molto arcaiche di per sé, migliaia e migliaia di anni, forse sin dalle prime epoche preistoriche di civiltà umane semi-scimiesche, hanno fallito nei loro intenti rivoluzionari di cambiare la società. Non so se San Pietro, Paolo o San D'Agostino, credo San D'Agostino, diceva che ci occorreva fare un mondo nuovo con gente nuova. Quest'idea è stata ripresa anche dai comunisti, ma è stata ripresa anche dai rivoluzionari francesi per cambiare le cose apocalitticamente bisogna distruggere il mondo vecchio e la gente vecchia. Questo messaggio l'hanno presso alla lettera Iana Battisti, che hanno fatto grande scempio di cattolici e protestanti nelle Fiandre, credendo che in questo modo si sarebbe avvicinata l'apocalisse. Invece poi alla fine l'unica apocalisse è stata la loro perché cattolici e protestanti si sono alleati per massacrarli. Poi lo hanno presso alla lettera soprattutto i seguaci, i Khmer Rossi di Pol Pot, che hanno voluto cambiare la società facendo tabula rasa del mondo vecchio e massacrando tutte le persone che portavano occhiali, che parlavano inglese, facendo saltare in aria, dinamitando le casse di cambio, le banche, spopolando intere città per circa dieci anni. Cambogia è stato un paese dove si obbligava la gente a lavorare forzosamente nei campi ed è morto circa un numero di due milioni e mezzo di persone fra torture e anche malattie e fucilazioni su una popolazione di otto milioni e mezzo di abitanti perché Pol Pot, da decerebrato che era, voleva compiere con le utopie marziste, cioè nessuno Stato, nessun denaro, sciogliere l'idea di famiglia, faceva dei pasti collettivi, entravano nelle casse a distruggere le pentole perché la gente non doveva mangiare in casa. Cosa che non hanno realizzato neanche nell'Unione Sovietica dove c'era il socialismo realista, cioè l'Unione Sovietica aveva conservato l'idea di Stato, anzi lo aveva ipertrofizzato, aveva una propria moneta e non hanno fatto tutte le cappellate che ha fatto Pol Pot. Cioè sono stati più razionali, con un'industria, hanno sviluppato l'industria, il commercio interno fra i paesi del blocco dell'Est. Comunque, tornando a noi, i sistemi religiosi tutti hanno fracassato nel loro intento di sconfiggere la morte, produrre un uomo nuovo, immortale, in un mondo nuovo. Perché si è dimostrato che non esistono al di là, non esiste neanche Dio. Per quello Nietzsche disse Dio è morto, non perché prima sia stato vivo, ma perché la gente credeva che esistesse. Oggi la gente mi dice io sono fermamente convinto che Dio esiste, sono religioso, ma è perché si sforza di credere. Io più che credere preferisco sapere, perché la credenza è un qualche cosa di cui non ne puoi essere convinto. Beh, naturalmente le religioni non sono soltanto le uniche cose che hanno fallito e sono soltanto buone come manifestazioni culturali. io ho sempre letto opere di antropologia, sociologia ed etnologia che si occupano di molti culti religiosi del mondo. Nessuno è meglio, nessuno è peggio. Ma in sostanza sono tutti uguali. Anche le ideologie politiche hanno fallito, soprattutto in Italia, ma non si può dire che nel resto del mondo no. repubblicani e democratici, i cui partiti derivano dalla scissione di un partito unico che si chiamava il partito dei repubblicani democratici, che si contrapponeva negli anni trenta, mi sembra, ai conservatori, sostenuti dal Ku Klux Klan, i conservatori dell'epoca. Beh, ci fa capire come oggigiorno ci sia un appiattimento di ideali fra repubblicani e democratici di adesso. ha serviti agli interessi delle lobby bancarie, industriali e soprattutto delle armi. Quindi la politica dei democratici e dei repubblicani continua a essere un espansionismo del dollaro e dell'influenza militare nel resto del mondo. Bill Clinton ha fatto bombardare più volte Baghdad di quanta non l'abbiano fatto bombardare Bush padre e Bush figlio. Quindi, anche in Italia, adesso più che mai si stanno riamalgamando tutti insieme PD, PDL che sono la sintesi di altri poli perché a sinistra hanno fatto un vero bosco l'ulivo, la quercia, la margherita, il garofano. Mancava il carciofano, no? Che Calindri facesse il partito del carciofa. Però, hanno fatto di tutti i colori a sinistra per arrivare al PD e sono omologabili, sono tutti uguali. I partiti politici sono stati utili nel passato come i sindacati, ma adesso sindacati e partiti politici sono asserviti alle industrie e agli interessi sovranazionali. Quindi, anche partiti politici hanno fallito nel loro intento. La rivoluzione industriale ha promesso molte cose, soprattutto attraverso la scienza. Ma alla fine si sono impossessati della rivoluzione industriale le lobby dei finanziatori, degli invertitori, degli inversori, della gente che mette molto denaro. È per quello che Tesla ha perso. Lui è stato quello che originariamente ha inventato il wifi con le sue torri di Tesla che potevano trasmettere elettricità a larga distanza ad altre torri. Ma di quei progetti non si è saputo nulla perché le hanno distrutte a tempo perché potesse svilupparne un progetto articolato. Ed oggigiorno, se vuoi avere il wifi per il tuo cellulare o computer, lo devi pagare. ma magari avevano sviluppato già il wifi negli anni 70 insieme a internet. Perché non è diventato popolare prima il wifi è perché volevano ancora ricavare denaro vendendoti altre forme di comunicazione. E poi d'un botto il wifi nel 2013 è diventato molto popolare. Evidentemente il wifi lo aveva già inventato Tesla. soltanto che ai tempi di Tesla l'informatica non era sviluppata come adesso l'unica cosa che con le torri di Tesla si potevano comunicare erano le onde elettriche non i dati. Quindi Tesla è stato un rivoluzionario che hanno fatto fallire morto povero e solo in una stanza d'albergo perché se la sua rivoluzione sarebbe passata tutti avremmo avuto elettricità gratis. E quindi la rivoluzione industriale ci ha lasciato orfani di tutto quel benessere diffuso e massivo che ci prometteva. Quel benessere in parte c'è e la nostra vita sta migliorando soprattutto dal punto di vista della medicina ma le cose più all'avanguardia le devi pagare e molto salate. Quindi non ha compiuto la scienza con quella promessa di vivere in un mondo del Ben Godi gratuito e alla portata di tutti. La politica ha fallito. Ha fallito il marzismo perché Marx ha predetto molte cose che non si sono realizzate. Ha fallito il liberalismo dell'epoca che poi è diventato neoliberalismo. Hanno fallito i compromessi perché o si sono rivelati delle dittature oppure come il neochene il keynesianismo e il neochene keynesianismo sono comunque delle pianificazioni economiche e la politica è sempre più incontrollata anche sul piano economico. Quindi pianificare delle politiche economiche non ha senso. Ormai è sempre più selvaggio e le banche dettano la politica e quindi il gioco forza ha fallito anche l'economia perché è ormai svincolata da qualsiasi controllo diretto o indiretto della politica. Ormai è imperativo che i politici seguano i consigli dei bancari ogni ente bancario anche quelli nazionali sono privati come sono privati i club di calcio le selezioni nazionali perché perché le selezioni nazionali di calcio o di altri sport non sono nient'altro che selezioni di giocatori di club privati a livello nazionale solo che magari la selezione nazionale gode di finanziazioni pubbliche e poi ci sono gli inciuci come è successo col caso degli scandali della FIFA nel quale ci sono tangenti a livello nazionale ed internazionale per partecipare ma la selezione nazionale di calcio italiana è tanto privata come una qualsiasi altra ditta club sportivo eccetera le banche è lo stesso la banca nazionale d'Italia ha un direttivo composto dai principali direttori o direttivi delle banche d'Italia e anche stranieri che sono inversori ed azionisti quindi è una banca privata il fatto che riceva finanziamenti dallo stato italiano il fatto che quando c'era la lira la banca d'Italia gli aveva ceduto la sovrania monetaria e il fatto che la partitocrazia italiana abbia infiltrato gente nel direttorio della banca d'Italia non significa che la banca d'Italia sia una banca di stato come lo fu nell'unione sovietica adesso in Russia e nella comunità di stati indipendenti dopo la caduta dell'unione sovietica è succeduta la CSI liderata dalla Russia di nuovo per ragioni di consuetudine storica ancora ha quasi il pieno controllo sulla banca nazionale russa lo stato russo però a parte Corea del Nord Cuba e non so la Cina comunista e le banche di tutto il mondo sono private anche le banche nazionali quindi la casa non so in Cile la banca nazionale cilena eccetera sono private degli enti privati l'economia ha fallito perché anche se prometteva un ben godi come la rivoluzione industriale prometteva attraverso le scienze la produzione in massa è tutto o i privati hanno interesse a guadagnare sempre di più oppure quelli che hanno ceduto la sovrania monetaria ai privati e quelli del settore economico finanziario pubblico hanno interesse ad arricchirsi loro di Gandhi ce n'è stato uno anche di Gesù Cristo ma tutti gli altri non sono come loro sono delle persone comuni e correnti mettetevi nei loro panni nei panni dei politici che trattano di economia che poi si fanno chiamare economisti o tecnici ma sono sempre pur sempre dei politici perché li hanno messi lì i partiti politici per ragioni politici per ragioni strumentalmente utili ai partiti politici quindi stanno lì per logiche partitocratiche mettetevi nei panni di una di queste persone che fanno economia e non so se avete l'opportunità di guadagnare cento milioni di euro come se niente se vi rinunciaste se sarete capaci di rinunciarvi voglio dire probabilmente no ha fallito anche la cultura noi in Europa abbiamo molta più cultura e molta più civiltà che in altre parti del mondo a parte naturalmente Africa e Asia però come diceva Krishnamurti parlando dell'India più civiltà più cultura significa più stratificazione culturale e più stratificazione di varie civiltà nel corso dei millenni questo significa anche più accondizionamenti quindi quello che oggi consideriamo cultura è stato il prodotto di una classe dirigente che voleva imporre abitudini e stereotipi per governare le persone dell'epoca poi nel corso degli anni si è voluto rinnovare le tradizioni culturali che all'epoca erano invece delle abitudini che si imponevano alle persone allora in Italia abbiamo molta più libertà individuale perché possiamo scegliere a quale accondizionamento culturale appellarci dicendo io mi rifaccio a questa tradizione o a quell'altra però tutte le tradizioni nel passato quando si generarono nel loro tempo e luogo furono accondizionamenti culturali come diceva Benito Mussolini io voglio creare delle abitudini fasciste adesso perché col tempo diventino tradizioni e si consolidino nel tempo quindi le culture di oggi e le tradizioni di oggi che abbiamo in Italia erano accondizionamenti nel momento in cui l'elite la classe dirigente le imposse alla gente come accondizionamenti culturali tutti questi accondizionamenti culturali evidentemente fallirono perché se ne dovetero creare di nuovi per cercare di cambiare la gente di correggerla di migliorarla nessuno fu definitivo quindi anche rivoluzioni culturali ce ne sono state in Italia non solo negli anni 60 del 1960 non solo col fascismo nella politica nell'economia nell'arte nella cultura nella religione migliaia anche ecco da 3.000 anni di civiltà che abbiamo in Italia sarebbe impensabile contare tutte le rivoluzioni sociopolitiche culturali economiche produttive industriali e tutte hanno fallito anche nell'educazione della gente evidentemente dai casi di violenza che si ascoltano negli ultimi tempi in Italia socialmente parlando violenza familiare violenza di genero violenza nelle strade perché uno si rifiuta di dare una sigaretta magari quella che sta fumando viene pestato gonfiato a bote ucciso e poi la violenza che c'è nel mondo gli interventi bellici la cultura sta fallendo allora se è fallito la cultura le tradizioni le religioni che sono anche loro per vocazione tradizionale perché tendono a riprodurre in chiavi diverse di lettura lo stesso messaggio timbricamente e monotonicamente se hanno fallito anche i partiti politici i politici perché si stanno uniformando i sindacati le religioni io mi chiedo che ci rimane oggi del passato se è fallito tutto dobbiamo iniziare da zero dobbiamo chiederci dobbiamo porci la domanda come cambiare la società come migliorarla effettivamente perché sembra che per molti giovani e meno giovani lo sballo le droghe l'alcol la diversione l'otturdimento sia l'unica uscita ma quella è un'uscita alla catastrofe allo sfascio sociale non è un'uscita salubre e naturalmente uscire nella pazzia nel delirio della crisi mistica non è neanche una cosa ovviamente fattiva ci rinchiuderemo in un mondo di fantasie di speranze utopiche qual è la giusta uscita dai problemi che abbiamo nella società se non passa per la politica se non passa per le evasioni religiose se non passa per i sindacati se non passa per le mode culturali se non passa per l'economia il commercio la produttività industriale le promesse della scienza cosa ci potrà cambiare come persone perché possiamo così arrivare a produrre un mondo nuovo senza che si reiterino gli errori del passato dei vari millenni che stiamo continuando a perpetuare come degli imbecilli ripetendo gli stessi errori perché sbagliarsi uno a due volte è umano ma perseverare è diabolico e io vedo che in tutto questo anche se sono ateo magari i veri diavoli siamo noi come riuscire a cambiare tutte queste circostanze ecco io non ho delle risposte perché purtroppo faccio ancora parte culturalmente ed esistenzialmente di questo vecchio mondo forse sono anch'io una vecchia persona d'altra parte ho già 47 anni però ve lo chiedo a voi vi lancio un appello e rispondete in questo video o nello spazio delle discussioni perdone in questo radioprogramma o nello spazio delle discussioni o nel mio canale di youtube nello spazio delle discussioni del mio canale di youtube o in questo radioprogramma datemi le vostre risposte perché io non ne ho rantolo nel buio non so che cosa pensare ha tutto fallito fino adesso ma ci occorre una nuova via rivoluzionaria che ci cambia da dentro l'unica cosa che mi viene in mente e non in chiave religiosa è la meditazione lo studio e la meditazione che ci potrà migliorare come delle nuove persone altro non mi viene in mente quindi come dire vi lascio ho già fatto 26 minuti poi magari supero il tempo limite e non voglio fare un nuovo episodio credo che adesso ho tre ore e mezza ancora disponibili per registrare episodi in Spreaker e poi come sempre dovrò cancellare i vecchi programmi magari quelli che sono stati ascoltati meno o quelli che sono molto più vecchi cronologicamente parlando comunque vi ricordo che da molto tempo ogni episodio che io cancello anzi ogni episodio che carico simultaneamente è caricato in un mio canale di Youtube che l'ho aperto aprendo una pagina di Google Plus il canale di Youtube dove carico gli episodi di Spreaker che in Spreaker magari non risultano più caricati si chiama Radio Sant'en Chan o qualcosa del genere troverete il link nel mio canale di Youtube Sant'en Chan e forse anche nella descrizione di questa stazione radio di Spreaker quindi vi lascio con questa domanda con questo appello a tutti e tutti voi alla coscienza di tutti e tutti voi quale sarà il paradigma a venire quale dialettica intellettuale dovremmo adottare per risolvere tutti i problemi che non hanno potuto affrontare religioni partiti politici ideali socioculturali culture civilizzazioni le promesse della scienza eccetera tutto messo insieme bisogna essere creativi bisogna sfidare con la creatività il mondo nuovo forse per ricrearci da dentro serve la meditazione concepita in modo ateo naturalmente beh qui il vostro Sant'en Chan vi saluta non voglio arrivare a creare un altro episodio perché non avrebbe senso vi saluto grazie di avermi seguito fin qui e arrivederci a tutti ciao ciao